Un patrimonio stimato di circa 70 milioni di euro, il sequestro di beni per un valore di 220 mila euro nei confronti di Giovanni Attanasio, finito in manette, lui il vertice di una piramide criminale con raminificazioni in tutta Italia. Oltre 60 aziende interessi anche all'estero, accusata di reati di riciclaggio, il concorso esterno è un'associazione mafiosa, agli arresti anche il pregiudicato Enrico Bisogni. Con lo stesso provvedimento sono stati disposti i domiciliari per Sergio Larocca, stretto collaboratore di Attanasio, detto il Presidente. La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti dell'imprenditore salernitano ed altri due soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e al riciclaggio. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di Diretti di Riciclaggio. Intestazione fittizia di beni, false attestazioni e reati tributari. Gli arresti sono frutto di una vasta operazione portata avanti dalle fiamme gialle nelle province di Salerno, Roma e Vicenza nei confronti dei principali indagati e delle società del gruppo Attanasio. Le indagini condotte dalle fiamme gialle del GICO di Salerno sono state delegate dalla DDA per accertare l'effettiva riconducibilità da Attanasio, patron tra l'altro della società interidale e lavoro d'occa di numerose imprese operanti proprio nel settore della somministrazione di lavoro interinale. Nel corso delle indagini fatte di intercettazioni telefoniche, ambientali, pedinamenti e quant'altro, è emerso che il Presidente, titolare di un vasto patrimonio immobiliare, societario e mobiliare, ingrapparte fittiziamente intestato prestanome, la stima è di circa 70 milioni di euro accumulati attraverso la sistematica evasione fiscale, ma anche grazie all'appoggio del clan camorristico Pecoraro-Renna. L'indagato Enrico Bisogni, invece, già detenuto per associazione mafiosa, ha avuto un ruolo di primaria importanza all'interno delle società dell'indagato Attanasio. Tra i beni ritrovati in uno degli appartamenti perquisiti anche quadri di Picasso e di Monet, di cui si sta verificando l'autenticità, ascoltiamo il Maggiore della Guardia di Finanza Gaetano Capuozzo, comandante del GICO di Salerno. Nell'ambito delle investigazioni noi abbiamo esplorato circa 88 posizioni di soggetti che sono stati coinvolti nel quadriennio delle indagini, che è riguardato le indagini, nelle varie cariche sociali e nei rapporti che ci sono stati con le società. Attualmente i gravi indizi di colpevolezza ricadono su 15 soggetti. Ci sono quadri di Monet, di Picasso, da verificare l'autenticità degli stessi, ma comunque i falsi d'autore sono costosi. Sì, sono stati ritrovati a casa di Giovanni Attanasio e però poi solo dopo le perizie potremmo capire se sono originali oppure no. Avete fatto una stima? Una stima dei quadri per il momento no. Il patrimonio noi l'abbiamo stimato a circa 60 milioni di euro. Grazie. 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 Grazie.